Io credo che una partita veramente spartiacque sia la prossima, perché sembra un risultato facile, ma io conosco l'ambiente, conosco il terreno di Chiavari, ieri sera ho visto la partita, non meritavano di perdere contro la prima classifica, perché la Senna ha fatto due esiti in porta, praticamente, e quindi sono d'accordo con lei che fino adesso il percorso è giusto, però dobbiamo portare a casa qualcosa da Chiavari, perché vorrebbe dire da continuità, vorrebbe dire tante cose per noi. Oggi certamente è stata una prestazione di squadra, di qualità, perché andare sotto, rimanere in partita, non rischiare praticamente niente e giocare nel metà campo avversario anche con qualità è stata una partita di grande personalità e di intensità. A me, purtroppo, la Serie B richiede continuità, per adesso c'è e dobbiamo continuare a farla, perché senza, ce lo siamo detti forse la prima volta, a me non piace parlare di obiettivi, mi piace concentrarmi sulla partita alla volta. Logico che l'obiettivo è così, quello c'è che è di migliorare sempre, e anche oggi abbiamo visto dei miglioramenti, sia come sviluppi tecnico-tattici, sia anche come personalità di interpretare la partita. Ecco, le volevo chiedere, mister, sì, insomma, ha detto, è stato molto chiaro, ordine tattico sicuramente nel primo tempo, grande coraggio, intraprendenza nella ripresa, tra l'altro senza Setter, anzi, le volevo chiedere, a scopo precauzionale, insomma, non era al top della condizione, lo sta gestendo? Qual è il motivo della sua esclusione iniziale? Sì, lui adesso si sta allenando poco, quindi va in fatica e non riesce a fare partite così ravvicinate. Spesso, anche per il minutaggio, mi regolo un po' con le sue sensazioni, perché è uno che si conosce, e quindi cerchiamo di capire cosa può dare e per quanto può darlo. Credo che fino alla sosta sarà un po' sempre così, però, insomma, a di a di lui credo che sia stata una grande partita di tutti gli interpreti, e dire, insomma, mi è piaciuta, mi è piaciuta un sacco come, anche come nel coraggio, l'equilibrio, perché tu hai giocato sempre nella metà campo avversaria, però con le marcaturature preventive giuste. Sì, senza rischiare mai, è vero. Senza rischiare mai, e quando sei nel metà campo avversario è questo quello che devi fare. Costantini? È così anche perché abbiamo talmente pochi allenamenti, che tante prove fai anche fatica a farle. A me piace, cioè, guardo con attenzione sempre tutti i giocatori, poi un minimo di gerarchia in campo, nel gruppo cerco di mettere, ma una gerarchia che poi, sa, devono meritare sempre chi gioca, e gli altri non devono pensare che sia così sempre scontata. Però continuo a piacermi anche chi entra, che reputo che sia veramente una cosa fondamentale. Insomma, mi piace tutto il gruppo, perché veramente sta interpretando in a migliore dei modi questo tipo di percorso che abbiamo intrapreso. Buonasera, mister. Io volevo entrare su una questione, nel senso che questa è una squadra che ha la quinta partita sua, se non vado errato, mi corregga se sbaglio, ormai ha esattamente idea di che cosa fare con il pallone. Cioè, questa è una squadra che adesso, oltre a cercare qualche verticalizzazione, adesso cerca anche l'ampiezza, cerca anche molto di più i quinti. Vede questa... Cioè, è contento di questo progresso e quanto ancora può fare di PIL in Pescara? Grazie. Sono contento, però so anche che poi ogni partita ha una storia a sé, e quindi dobbiamo interpretarle sempre nella maniera giusta. Faccio un esempio. Mi piacerebbe essere a Chiavri brutto, ma è efficace, perché la B devi avere più armi, sempre armi diverse, e capire nel momento quali usare. Per esempio, con il Monza, nel secondo tempo abbiamo usato un tipo di strategia con delle verticalizzazioni più improvvise, invece che questa partita dovevamo farla così. Quindi, sono contento perché i ragazzi, appunto, quel poco che proviamo, perché è veramente poco, lo mettono in pratica. però sono anche abituato a sapere che ogni partita prima devi giocarla e poi l'analizzi. Logico che le partite che hai fatto prima sono la base e certe cose che tu hai fatto poi devi pretendere da te stesso. Non dico tanto sulla qualità del gioco, ma sull'intensità, sulla personalità. Quando le hai fatte qualche volta poi vuol dire che fanno parte del tuo DNA e non devi mai smettere di farlo. Dishashio? Ministro, buonasera, tra le cose positive di stasera volevo citarne un'altra e capire se lei è d'accordo. Probabilmente la partita l'ha preparata su un altro modulo del Brescia, immagino, che fino adesso l'ha fatto 3-5-2, 4-3-3, stasera ha fatto, ha giocato in maniera un po' diversa. Però la squadra si è rimodulata un po' su quelle che poi sono i riferimenti di cui lei parlava la scorsa partita. Cioè, ha capito subito che probabilmente Biannusson non era una mezzala ma era diventato un trequartista piuttosto che l'alletramento di Ragusa nella linea dei tre. Anche questo credo che sia un bel segnale per la squadra che ha saputo subito rimodularsi su quella che era praticendo tattico e probabilmente l'avate preparato immagino. No, no, lo sapevamo perché loro così hanno giocato con la Salernitana, cioè difendendo con un modulo e attaccando con un altro. Quindi è logico che appunto le complicazioni c'erano e un pochino nel primo tempo qualche uscita più coordinata ci avrebbe permesso di ripartire ancora meglio. Però poi appunto nel secondo tempo abbiamo un po' ripassato quello che dovevamo fare e abbiamo giocato praticamente sempre là. Però appunto qui fa parte del lavoro dell'atteggiamento non del lavoro perché il lavoro è poco dei ragazzi che è stato un atteggiamento che cerca sempre soluzioni. Ho dei ragazzi che mi piacciono un sacco ma non è la frase di circostanza perché veramente vanno oltre. Faccio un esempio anche su magari certi episodi non ci siamo pianti addosso e abbiamo continuato a giocare e abbiamo cercato di lasciargli le spade riguardare quello che potevamo determinare. È tipo il rigore negato clamorosamente negato allude a questo mister? No no ma allora io degli arbitri non sono mai non ne parlo mai nel bene e nel male però magari tu entri al 43esimo dopo un rigore il rigore per chi lo subisce è sempre un momento di cioè vedi qualcosa che magari non va però ce lo siamo detti subito basta questo è andato e pensiamo a giocare e a trovare soluzioni non a quello che è stato perché poi dopo appunto a me l'abiti non fa parte proprio del mio modo ma perché il messaggio che voglio trasmettere ai ragazzi è di determinare quello che posso determinare e se sono il primo che piange che messaggio ma do quindi devo essere il primo che passa sopra queste cose. Luigi se ci sono altre curiosità altrimenti c'è bocchetto io volevo fare una domanda su Val di Fiori in che modo hai riuscito a trasformare o meglio a far tornare quello di una volta questo giocatore quello ammirato finora quello visto oggi in passato non l'abbiamo visto io credo che la scusante o l'alibi del covid contratto in estate credo che sia un alibi appunto in che modo hai riuscito a rimetterlo al centro del progetto se solo fisicamente o anche a livello motivazionale perché certi giocatori a una certa età devono essere anche un po' motivati dopo i trascorsi insomma gloriosi che hanno avuto nel caso di Val di Fiori cercando anche di fargli fare in campo quello che sa fare che ha sempre fatto molto molto bene ricreando nel limite possibile per lui e anche per gli altri quelle che sono proprio le sue caratteristiche poi a volte viene a volte non viene e tanto dipende dai ragazzi perché io posso fare quello che voglio ma poi sta a loro lui si è sempre a me è sempre piaciuto anche nelle partite che magari eravamo meno belli ha sempre fatto e ha seguito le indicazioni tattiche che proviamo a fare quindi a me è sempre piaciuto e anche mi ha avuto due o tre settimane fa io sono contento di avere giocatori in squadra come lui ma sono contento di tutta la rosa perché per me è una rosa che ha dei valori poi sul resto appunto noi possiamo raccontarci quello che vogliamo ma in campo ci vanno i ragazzi posso? arrivederci posso chiedere velocemente risultato ingiusto secondo lei Breda? no va bene così abbiamo portato a casa un punto abbiamo fatto la prestazione giusta nostra magari se qualche episodio già diversamente potremmo portare a casa qualcosa in più però insomma teniamoci a questo punto e lavoriamo per i prossimi intanto buon Natale a tutti quanti e anche alle vostre famiglie